Ciao a tutti e ben ritrovati appunto su Dentro la Scatola Questo video vuole essere un piccolo esperimento, ovvero sia un video di gameplay Non ho mai fatto video di gameplay, appunto sono qua che mi ritrovo appunto in un territorio un po' inesplorato come dicevo Proprio perché fare un video di gameplay è un pochino diverso dal solito Di solito comunque una recensione si prepara, anche un unboxing comunque è uno scoprire dei materiali Però di fatto qui sono io adesso che vi faccio vedere effettivamente una partita a The Game Quindi non voglio farvi aspettare oltre, non voglio tediarvi oltre Qualche piccolo accenno al regolamento Abbiamo 4 mazzi e dobbiamo calare tutte queste carte all'interno di questi 4 mazzi Riuscendo a completare quindi le carte che terremo in mano Io vedrò se sarà più comodo tenerle in mano o se invece ve le metterò qua Tanto la variante è in solitario quindi possiamo comunque vederle senza particolari problemi E pian piano giocheremo insieme e cercherò di commentare insieme a voi le mie scelte Ovviamente se vedete qualche errore madornale segnalatemelo proprio perché è utile per voi Per vedere un pochino come può girare una versione in solitario, la variante è in solitario di questo The Game Però anche può essere utile per me per imparare qualche cosa di nuovo insomma Perfetto iniziamo quindi The Game Siamo da soli, peschiamo 8 carte Questo mazzo io l'ho già adeguatamente mischiato Quindi se vedrete dei salti durante la registrazione Abbiate fede, è la mia videocamera che fa i capricci Quindi sono io al massimo che ho girato più spezzoni di video Perfetto, abbiamo queste carte Cerchiamo di capire se siamo stati fortunati o sfortunati Naturalmente come vi dicevo ho già mischiato abbondantemente questo azzo Direi che non siamo stati fortunatissimi Perché comunque avremmo avuto bisogno di carte molto vicine all'inizio Quindi o all'1 o al 100 Direi di iniziare a calare queste 3 Queste 3 infatti vi posso già far vedere una piccola cosa Allora gioco l'89 Gioco al posto dell'88 Gioco il 78 E poi l'88 Provo per la regola al contrario Per un ripasso un pochino più approfondito delle regole Vi rimando al video della recensione In modo tale che forse vi conviene vedere prima quello E poi vedere appunto il video del gameplay Comunque in questo anno mi sono già liberato di 3 carte in un colpo solo Vi ricordo che bisogna fino a che ci sono carte da pescare Metterne giù almeno 2 alla volta Quindi ne peschiamo altre 3 1 2 E 3 Siamo stati relativamente fortunati Io a questo punto vediamo un pochettino cosa possiamo fare Io giocherei queste 2 carte E poi mi fermerei Perché ecco infatti sto facendo un disastro Quindi dicevo giocherei l'8 Qui E il 13 E proseguirei pescandone altre 2 No devo ammettere che siamo fortunati Perché abbiamo 3 carte Distante esattamente 10 l'una dall'altra Quindi questo ci tornerà parecchio utile Perché potremo davvero liberare parecchie A questo punto io giocherei Il 17 Che è ancora piuttosto vicino Ma non voglio rovinarmi le cose Insomma è una bella scelta questa A questo punto il 4 qui per forza Non voglio rovinare troppo appunto le mie Anche qui 33, 43 Anche molto bene E il 42 Questo è una ottima notizia Vediamo un pochino le carte Ora cosa possiamo decidere Allora Qui fa 16 Potrei 16 Se no qui sono sempre 16 Però qui non ho ancora giocato Azzardiamo a questo punto Io azzarderei questa mossa Quindi anche qui così mi libero di 3 carte 35 Anzi 4 carte 42 43 E 33 Direi che questa è stata la mossa migliore Che potevamo fare 80 Anche qui ragazzi Stiamo avendo fortuna Molta fortuna Siamo a 6 7 E 8 E 8 A questo punto è molto golosa liberarsi di tutte queste carte in un colpo solo Per cui faccio 75 72 57 57 50 60 70 80 Bello Bello liberarsi di 7 carte in un colpo Naturalmente non si può poi vedere quali carte sono già state giocate Proseguiamo Proseguiamo Quindi 7 carte da pescare 1 2 3 Bello 90 Bello bello 5 6 7 7 8 8 Molto bene Il 90 praticamente è una giocata assicurata Proprio perché il 90 ci permette di salire ulteriormente Devo ammettere che ho avuto abbastanza fortuna in questa E ci liberiamo di queste due a questo punto 96 e 95 Quindi siamo a 3 carte da dover pescare Quindi 1 2 E 3 Anche qui mi sembra che il 6 sia D'obbligo E anche il 34 Visto la loro vicinanza Per cui Quindi il 6 Lo giochiamo qui E il 34 Lo giochiamo qui Molto bene Anche qui 2 carte Benissimo Proseguiamo Allora Qui Direi di Una bella scelta Non vorrei rovinarmi in questo 6 Perché Ho paura poi Che tutte le carte Sul Una decina Quindi 12 13 15 Non mi pare Siano già uscite Quindi preferisco Piuttosto andare su questa E quindi Fare Una cosa di questo tipo Lo so che ho una scelta un po' rischiosa Però Preferisco quindi altre due carte giocate Ne peschiamo altre due Il 98 E il 29 Allora Vediamo un pochino Anche qui Eh Anche qui Che decidiamo di fare A questo punto Da qualche parte Bisogna pure andare A questo punto Scendiamo su questa Quindi visto che c'è il 66 Il 76 Mi libero di 4 carte Che così abbiamo Un po' Meno carte in mano Proseguiamo 1 Ah cavolo Il 5 Siamo a 5 6 7 E 8 La fortuna dei giri iniziali Sta iniziando un po' A scemare Che fare Il 14 è già uscito il 4 Quindi A questo punto Possiamo 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 È una scelta difficile Perché Allora Probabilmente mi conviene Mettere innanzitutto Il 69 Qui E così Ho già liberato una carta E poi Non voglio rovinare troppo Quindi mi tocca Anche fare questa cosa Che non volevo fare Vabbè Due carte Il 18 E il 91 Beh Allora Il 91 È molto appetitoso Però intanto Il 18 Qui ci va E il 91 Così Altre due carte Fatte 90 E ovviamente Ovviamente Non avevo dubbi Ovviamente Ho appena messo giù Il 91 Ed esce il 93 Eh Santa pazienza 7 carte Ne manca una Beh Il 51 È molto goloso Ce ne liberiamo E poi Eh 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 Ci liberiamo Del 25 Per forza 7 E 8 Capite bene Ora Quando vi parlavo Che può essere Snervante Questo gioco Può essere molto Snervante Proprio perché Vedete anche voi Adesso Che sono costretto Magari a qualche Mossa un pochettino Azzardata Va bene No Neanche tanto Dai Liberiamoci di queste Tre carte Che così Dovrebbe andare Un po' meglio 1 2 2 2 E 3 Vediamo allora A questo punto La mossa più sensata È fare Così Non è la migliore Preferirei fare qualcos'altro Però Mi tocca Quindi 1 E 2 Il 32 Lo gioco già E ci liberiamo Anche del 38 Sto purtroppo Come avete visto Salendo molto Con queste crescenti Non è una bella cosa Perché poi dopo Rischio di pagarla Con gli interessi Andando avanti E anche qui Porca miseria Porca miseria Per forza Mi trovo costretto Continuamente Imperterrito A salire 24 Siamo a 7 E 8 Dai Non sono così sfortunato 83 Ho il 93 Possiamo tirare un po' su Peschiamo 1 E 2 Vedete sempre Questo pescaggio Per il 47 Subito E poi Che si fa Cioè Praticamente Sono costretto A giocare Al 23 Al 24 Perché 98 Al 99 Me l'aspettavo Che sarebbe successo Una cosa simile Il 92 98 Al 66 Non posso giocarli Perché O salgo molto Di questo Possiamo fare così Questa è la cosa migliore Forse E 1 E 2 Mi sta venendo Veramente l'ansia Quanta ansia Questo gioco Riesce No 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 Mi perdonerete Ma lo gioco qua 56 E Mi trovo Nella situazione Di prima 98 E 99 Qua mi sballano Tantissimo E questi 30 Però li sono ancora Al 93 Scendiamo di qui 1 E 2 Ma che sfortuna Con queste carte Qua Con queste carte Veramente 1 E 2 Ci riproviamo Insomma 1 E 2 Pescate No Devo ammettere Che stiamo avendo Parecchia sfortuna Mi sa che Vedrete Una meravigliosa Sconfitta Da parte Di The Game Perché Di questo Passo Ci vedo Proprio male Ci vedo Proprio Proprio male Per forza Mi trovo Costretto Veramente A bruciare Completamente Una Un appunto Di queste Quindi qua 77 Tutta la vita Anzi Anzi No Forse è meglio Giocarlo qua 77 Ovviamente Perché lì Mi giocavo 10 numeri Qua me ne sono giocati Solo 4 Capite Questo è il discorso Allora Che cosa possiamo fare Qui Benissimo Io ho già pescato Le altre due carte A questo punto Vedete Come la partita Diventi sempre più stretta A questo punto Mi trovo costretto A giocare queste due Il 7 Il 5 In discesa Speriamo di trovare Qualche carta Un po' migliore Perché Effettivamente Una E due Beh dai Non ci è andata male L'81 Lo possiamo giocare qui E il 53 Lo giochiamo qui Ribadisco La netta sensazione Che qualcuno Vada a perdere Anche qui E' un disastro Questa partita E' veramente un disastro Perché Mi sto già praticamente Come vedete Bruciando Più di una Di un mazzo E poi tornare indietro E poi tornare indietro E' veramente Ardua Quindi niente Non vedo molte alternative Se non Giocare il 40 Al 41 Su quel mazzo Perché il 94 98 99 Dovrei giocarli Sui mazzi crescenti Con il rischio Di bruciarmeli Perché effettivamente Puoi tornare indietro Con queste carte È veramente difficile Il 3 Potrei giocare Il 3 Però comunque Non mi cambia Più di tanto Anzi E' già bruciata Giochiamo il 41 Il 40 Su questo mazzo Per forza di cose Ne peschiamo Al 3 2 E a questo punto Beh Il 58 E l'85 Per forza di cose 1 E le 2 Beh A questo punto Mi libererei Di queste 3 carte Sul 40 Per cui Farei Il 37 Il 26 E il 36 Queste carte Mi sarà comunque Relativamente facile Metterle giù Non mi preoccupano Più di tanto Perché comunque Sono le ultime In fila Quindi queste qua Verranno messa La fine Ve ne servono Da pescare 3 Quindi 1 2 Siamo a 7 E ho fatto bene A non giocare Perché però Tanto comunque Lo brucio Lo stesso Vabbè Niente Quindi L'86 Va qui E il 15 Va qui Quindi Siamo relativamente 1 E 2 Anche qui Si potrà fare Un bel giochetto Però Inevitabilmente A questo punto 64 E 68 Vanno qui Qui sarà comodo Perché l'84 E il 94 Mi permetteranno Di tornare un po' giù E avere un pochino Più di agio Se Fossi Particolarmente Stretto Però Mi sa che ormai È molto vicino A questo momento Perché Infatti Mi sa che È la mossa migliore In questo momento Tra l'altro Queste qua Sono carte Che già Soprattutto meglio Il 39 In questo momento Non potrei metterlo Da nessuna parte E capite come La partita Andando avanti Possa diventare Davvero Molto Molto Stretta Quindi niente 94 E 84 Altre due carte Il 2 E il 19 A questo punto A questo punto L'alternativa È veramente È una È chiudere Una delle due Perché se sto Anche stare intermedio Comunque Il 19 Il 29 Se non sbaglio È già uscito Quindi Molto difficile Molto Molto Difficile Però Preferisco Non chiudermi Troppo La partita Per cui Facciamo una cosa Di questo tipo Anzi Però Sapendo Vedete anche qui Sapendo che Il 29 È già uscito Forse è meglio Chiudersi Definitivamente Una strada E vedere un po' Di riuscire Magari a tirare Su quel 36 Uno Due Scherzavo 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 Perché siamo Comunque Arrivate Alla strada Di prima Eh Santa pazienza Uno E due Vi tengo Queste due carte Per il prossimo Turno Se le prossime Due Non dovessero Essere Particolarmente Gustose Da pescare Vediamo un po' Beh dai Il 9 Il 19 Niente A questo punto Conviene Il 20 Il 9 Il 19 Così ne ho Buttate giù Tre Ma vedete Davvero Come possa essere Di una cattiveria In mano Il 12 Il 12 È stata una grande Pescata Il 45 Siamo appunto A capo E ne manca Una Il 71 Beh a questo punto Il 71 E il 12 Però capite già Come queste tre carte Praticamente Non possa piazzare Da nessuna parte Va beh Uno E due Vabbè Il Questo punto Queste tre Possono essere Sempre piazzate Beh Intanto il 16 E poi Effettivamente Mi trovo Costretto A dover giocare Qua il 97 Mi tengo sempre Due carte Di scorta Per il prossimo Turno Se ne dovessi Pescare brutte Carte Una E due Massiamo Punte A capo Qui 98 99 Una E due Ho la netta Sensazione Che stiamo Per perdere Non so voi Come la vedete Ma Anzi Direi proprio Che abbiamo Perso Abbiamo perso Perché Praticamente Al momento L'unica Carta Che io Posso Mettere Il 79 Qui Ma a questo Punto Io non posso Più Mettere Alcuna Carta Perché Queste Qui Sono Tutte Appunto Purtroppo Più Grandi Di questi Numeri E quindi Non posso Più Tornare Ho il 28 Ma Non Qui C'è Il 18 Ma Il 16 52 63 65 Signori The game Ci ha battuti Io Ci ho provato Ci ho provato Insieme a voi Questo gioco Ha effettivamente Dal mio punto di vista Una Sfortuna Perché alla fine È anche una questione Di pesca di carte Non è Non è solo Secondo me È una questione Di bravura Però Ha quel pizzico Di bravura Nel Nel calare Le carte Nell'astuzia Io Non so Spero che Questo piccolo Esperimento Vi sia piaciuto Per me è stato Abbastanza divertente Qualcosa di diverso Dal solito Che Tutto sommato Mi ha convinto Mi ha convinto E però Ovviamente Voglio sapere Cosa ne pensate Se vi è piaciuto Questo format Se mi consigliereste Di fare Qualcosa di diverso Ho scelto appunto The game Perché è un gioco Un pochino semplice Da setuppare Da mostrare Quindi Pensavo Potesse essere Davvero L'ideale Per fare Un primo video Di gameplay Che come vi ribadisco Come vi ho già detto All'inizio Vuole essere Una sorta Di mini esperimento Per cui Aspetto la vostra opinione I vostri commenti Qua sotto Nei appunto Nei commenti Di youtube Fatemi naturalmente Sapere cosa ne pensate Del gioco E appunto Del video Che mi interessa Davvero molto Sapere questo E come sempre Ci vediamo Al prossimo video Magari Sperando in una vittoria Grazie a tutti